Sergio Scarselli, presidente della sezione Bersaglieri di Città di Castello. La sezione generale Corrado Corsi è stata fondata 51 anni fa, grazie al generale Corsi che era un generale dei Bersaglieri e praticamente ha dato l'input per fondare questa associazione che come tutte le associazioni d'Italia hanno il solo scopo di qualcosa di beneficenza finché si può e poi di raduni bersagliereschi per ritrovarci ogni anno ai raduni nazionali e prendere parte a manifestazioni che vengono a essere svolte nella nostra città in particolare oppure nelle città limitrofe, anche qualche volta con trasferimenti abbastanza lunghi. Comunque è un piacere immenso prendere parte, noi fanti piumati perché noi siamo fanti piumati prendere parte a queste manifestazioni con orgoglio e poi quando la nostra fanfara, il suono della fanfara che ci riempie il cuore di gioia, una carica di gioventù, ci fa ritornare vent'anni a parte che noi Bersaglieri abbiamo vent'anni sempre e il Bersagliere dice sempre che anche dopo morto farà tre salti nella tomba. Mi toglie una curiosità Sergio, abbiamo visto la fanfara dei Bersaglieri suonare prima della cena ho visto che tu hai consegnato una stampa della tipografia Grifani Donati al tuo collega il presidente della sezione? Della sezione di Montevarchi, il presidente della fanfara della sezione di Montevarchi. Quanti bersaglieri iscritti alla sezione di Città di Castello? Alla sezione di Città di Castello siamo iscritti 47 bersaglieri, praticamente un numero abbastanza consistente considerando che il corpo in armi c'è ancora, però il servizio militare è stato abolito e di conseguenza noi siamo tutti quanti ex militari che hanno fatto parte del corpo dei Bersaglieri. Forse è uno dei corpi dell'esercito più amati, quello dei Bersaglieri, perché tutti ce li ricordiamo capelli, piume al vento e con la fanfara. Tu nella tua giovane età, quando eri bersagliere, hai suonato la fanfara di corsa? Io non sono stato, non ho fatto parte del corpo della fanfara, però ero un caporale istruttore e la mattina all'alza bandiera era uso e costume con la fanfara davanti, farci qualcosa come 7, 8, 10 chilometri di corsa e questo era il nostro cavallo di battaglia. Ti faccio questa domanda perché è una curiosità che ho sempre avuto. Come facevano, come fanno tuttora questi baldi giovani a suonare la fanfara correndo? Beh, è dovuto in particolare a tanto allenamento, tantissimo tantissimo allenamento. Io mi ricordo che quando ero a fare il militare e l'ho fatto a Roma, praticamente era un susseguirsi di corsa. Lui si salzava la mattina di corsa, si faceva l'alza bandiera di corsa, si faceva il giro di piazza d'armi di corsa, si andava a mangiare di corsa, si usciva di corsa il libera uscita e poi qualche volta si dava la cazza alle sottane anche di corsa. Sergio, c'è un corpo non italiano che si avvicina al corpo di Bersaglieri? No, in tutto il mondo credo che non ci sia un corpo perlomeno simile ai Bersaglieri, perché il Bersaglieri è unico, è stato fondato nel 1823 dal generale La Marmora e un corpo simile non esiste da nessuna parte, anche perché è impossibile copiarlo. Ti faccio questa domanda perché di sovente in parate militari con paesi esteri viene invitata la fanfare dei Bersaglieri, probabilmente allora è proprio per questo motivo qua. Sì, perché le varie fanfare dei Bersaglieri che ci sono in Italia e ci sono sezioni anche all'estero, addirittura in Canada, in America, in Australia e praticamente le nostre fanfare, quelle abbastanza consistenti, vengono a essere invitate spesso e volentieri in questi paesi proprio per rivedere vecchi commilitoni italiani andati all'estero per farli risentire ancora veramente giovani e ce ne sono tanti di Bersaglieri che sono all'estero, tanti, tanti, tanti. Un'ultima domanda, non c'è più in Italia il servizio militare, il Bersaglieri probabilmente è diventata una professione, c'è sempre quello spirito che c'era prima? Sì, io conosco gente che sono in missioni di pace, Bersaglieri, hanno sempre quello spirito vivo, è una cosa che abbiamo dentro noi Bersaglieri. Al momento in cui uno parte, ti mettono il cappello piumato, ti senti prendere veramente fino in fondo e non l'abbandonerai mai, mai, mai nel corso della tua vita, mai, assolutamente.